La gente che aspetta qui, la nostra diva Bambula Star, che ora ferma un attimo qui, un minuto, un minuto, sono quasi due ore che sto aspettando questa diva, aspettando per il suo compleanno, la gente qua fuori mi domandando chi è che arriva, arriva la diva Bambula Star, cosa c'è da dire al tuo pubblico che è là dentro, che ti aspetta già tanto tempo, non si muovano. Ok, prima di tutto voglio che scusate il mio pubblico per il retardo, come è previsto che succede, però sono qui per voi, adesso devo ricever loro. Grazie, grazie. Poi vedo se la parola contiene ancora. Niente, come avevo detto prima, è arrivata, è da due ore che sono qua.